Un volano, una racchetta, un campo. E' uno sport che si pratica al coperto. Si possono fare delle finte, ingannare l'avversario. E' uno sport molto movimentato. Oggi ci esercitiamo sul net drop tagliato. Descrivete un cerchio verso l'esterno con una rotazione dell'avambraccio, tagliando il volano da destra. Nel badminton le partite possono diventare piuttosto aggressive. Nel volano c'è meno competizione. E' uno sport che si gioca soprattutto in singolo, ma si può giocare anche in doppio. Due contro due.